il treno regionale 74 32 di trenitalia pronoiente da roma ostiense e diretto a cesano di roma delle ore 18 e 19 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a 4 20 roma san pietro valle aurelia appiano roma balduina gemelli roma monte mario roma san filippo neri ipoceo degli ottavi la giustiniana la storta olgiata attenzione si informa alla clientela che il viaggio del treno regionale 220 93 previsto in partenza da fiumicino aeroporto avrà sede nella stazione di roma tiburtina ci scusiamo per il disagio il treno regionale 949 di trenitalia proveniente da bracciano e diretto a roma ostiense delle ore 18 e 20 e in arrivo al binario 9 attenzione allontanarsi dalla linea gialla allontanarsi dalla linea gialla non sono previste fermate intermedia il treno regionale 21 9 49 di trenitalia proveniente da bracciano e diretto a roma ostiense delle ore 18 e 20 e in arrivo al binario 9 attenzione allontanarsi dalla linea gialla non sono previste fermate intermedie. Il treno regionale 21 9 4 8 di Trenitalia proveniente da Roma Ostiense e diretto a Viterbo Porta Fiorentina è in arrivo al binario 2. Attenzione allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Roma San Pietro, Valle Aurelia, Cesano di Roma, Anguillara, Bracciano, Manziana Canale Monterano, Oriolo, Capranica, Petralia, Viterbo Porta Romana. Attenzione Trenitalia informa che il viaggio del treno regionale 21 8 1 9 diverrà 22 0 9 8 e avrà sede nella stazione di Roma Tiburtina. Ci scusiamo per il disagio. Il treno regionale veloce 23 46 di Trenitalia proveniente da Roma Termini è diretto a Pisa Centrale delle ore 18 e 22 e in arrivo al binario 4. Attenzione allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Roma San Pietro, Ladispoli Cerveteri, Marina di Cerveteri, Santa Marinella, Civitavecchia, Tarquinia, Montalto di Castro, Capalbio, Ordetello, Alvinia, Grosseto, Montepescali, Folmonica, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Cecina, Rosignano, Livorno Centrale. Il treno regionale 32 59 di Trenitalia proveniente da Grosseto è diretto a Roma Termini delle ore 18 e 40 e in arrivo al binario 1. Attenzione allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Roma Ostiense, Roma Tuscolana.